Sono 19 le persone attualmente positive in città, a dirlo il sindaco Michele Abbaticchio informato dalla prefettura di Bari e dal dipartimento competente dell'ASL. La situazione che desta particolare preoccupazione è quella di un caso di presunta positività di un agente in servizio al comando di polizia locale che ha manifestato sintomi riconducibili al covid. Il comandante Gaetano Paciullo è intervenuto sulla vicenda chiarendo che ha comunicato in maniera tempestiva all'ASL e al sindaco rispettando il protocollo sanitario regionale anti-covid. In via del tutto precauzionale sono stati messi in isolamento fiduciario comunicandolo al medico competente i 14 agenti che nei tre giorni precedenti avevano avuto contatti con il vigile che ha manifestato sintomi che ad oggi sta bene. Nulla che giustifichi l'attribuzione al collega in questione dell'infamante etichetta di un tore, chiarisce in una nota Paciullo. Per questo a tutela delle immagini e della dignità professionale di tutti noi, ha concluso il comandante, ho chiesto all'avvocatura comunale di valutare le più opportune azioni legali contro i numerosi leoni da tastiera che si sono lasciati andare sui social con commenti fuori luogo. Intanto il sindaco ha già preso provvedimenti. Noi abbiamo deciso di finanziare tutti i tamponi con i fondi comunali per tutti i vigili, così per tagliare la testa al toro visti i tempi di attesa. Non abbiamo ancora il risultato dell'esito del tampone del vigile che ha manifestato i sintomi da Covid. Qualora fosse positivo, come ho già scritto, dovremmo aspettare fino al 20 prima di concludere l'isolamento fiduciario di 14 vigili. Vista la situazione a Baticchio ha anche scritto al questore di Bari per far giungere in città i rinforzi. Ho chiesto al questore un aiuto considerando la situazione, ieri sera ho fatto un giro per l'estate del centro storico, per un'oretta siamo rimasti completamente scoperti perché le forze dell'ordine sono impegnate in un'ulteriore emergenza nel centro e niente, resto preoccupato, speriamo che la settimana prossima arrivino i rinforzi. In queste settimane intanto sono fioccate già le prime 20 sanzioni da parte della Polizia di Stato per chi dopo l'ordinanza del Governo è sprovvisto di mascherine anche all'aperto. L'appello al senso della collettività, al senso civico della collettività sia obbligatorio per chiunque.